Buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV e di Radio Center Music per Buongiorno ETV, sei in onda anche tu, la nostra vostra rassegna stampa. Ripartiamo con un'immagine molto bella che ci viene dal pubblico, da Mergo, zona entroterra anconetana, un'immagine non certo di pace, devo dire, tra l'uomo, la terra e il cielo, a conferma che insomma non è ancora finita. Buongiorno ETV, oggi saranno disponibili due dei nostri cari ad ostra, padre e figlio, una grandissima perdita, grazie. Undici le vittime, lo ricordiamo, ripartiamo dunque dall'alluvione, dal mancato ancora ritrovamento dei due dispersi, la signora Brunella e il piccolo Mattia. Abbiamo ieri ascoltato le voci di chi conosceva queste persone meravigliose che sono venute a mancare tra poco il servizio. Buongiorno, anche da Sant'Elpidia Mare ci scrive Mirella, ecco allora questa sì che è un'immagine medicamentosa per una terra ferita, tre miliardi di danni, undici vittime, due dispersi, questa la terribile ma doverosa conta. Ripartiamo dai giornali, dai titoli che trovate oggi in edicola, in rapida successione. Tre miliardi buttati in acqua, danni enormi in due province, migliaia di imprese colpite, strade e ponti distrutti dall'alluvione. Servono? 200 milioni. per mettere in sicurezza il bacino del Mise, il progetto pronto dal 2016, ma per le lungaggini burocratiche non è andato in porto. Così hanno raccontato diversi professionisti anche della politica che abbiamo intervistato. 200 milioni servirebbero, 3 miliardi il totale dei danni. Ancora una volta purtroppo la frase sarebbe stato più facile e meno costoso prevenire piuttosto che curare. Eccoli qua, gli angeli del fango. Trovato lo zainetto ma non Mattia. Ricerche ovunque. Zainetto ritrovato a 8 km di distanza da dove era stata ritrovata l'auto sulla quale viaggiavano il piccolo Mattia e la mamma. Ora è il momento anche delle indagini, dei PM. Due indagini sono state aperte dalle procure di Ancona ma anche dalla procura di Urbino. Perché? Per capire se l'allarme sia stato ritardato. Intanto a Senigallia il lungomare devastato, locali in ginocchio, la richiesta risarcimenti subito. Bibbia galleggiante salvata nell'oratorio invaso dalla melma. Questo è successo ad Ostre. Noi abbiamo anche mostrato un'immagine poco fa, ve la vado a recuperare. Eravamo su questo, zona Ancona. blizze dei vigili all'ex Antonini. Questo cantiere non è un albergo. Scatta lo sgombero per sette clochar, sette originari del Pakistan che sono stati fatti sgomberare. Ero qui sul giornale proprio per recuperare l'immagine che vi avevo descritto poco fa come un segno. La Bibbia aperta che galleggia sul leggio dell'oratorio devastato dall'alluvione. È successo appunto ad Ostra. Purtroppo non c'è pace neanche per quanto riguarda la paura e il pericolo di sciacallaggio. Perché? Perché gente che fruga tra le cose stese ad asciugare. Questo stiamo denunciando anche ieri. Abbiamo parlato di Pergola dove sono spuntati i soggetti che andavano a cercare roba e a rubare roba. Ragazzi, come si fa? Allarme per gli sciacalli dell'alluvione. Succede, come detto, anche questo. Ancora notizie legate al territorio marchigiano che non riguardino solo l'alluvione. Ci manca solo il terremoto. Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto anche segnalazioni, ma che è successo? Sì, vi confermiamo. Incubo sciamesismico. Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 avvertita a visso. Questa è la cartina. Magnitudo 3.0 significa insomma anche un terremoto importante. Non c'è pace per le marche. Apocalisse, alluvione e adesso anche la paura del terremoto con una scossa registrata alle 13.55 esattamente con epicentro a 3 km da visso. Una zona tristemente già colpita. Chiudiamo il primo piano del giornale per l'Anconetano. Anche qui sul cartaceo trovate Lex Antonini, Bivacchi Stop, Blitz dei Vigili, Via i Colosciar, altri homeless arrivati domenica sera nel cantiere, panni stesi, materassi, ma sono stati allontanati. Il meteo perché capisco che in queste ore soprattutto almeno perché possano essere lasciati tranquilli a lavorare i volontari, coloro che stanno spalando il fango, almeno evitasse di piovere. E allora confermo che perlomeno per quanto concerne le previsioni del meteo.it non è prevista. Oggi pioggia, temperature molto più basse rispetto ai giorni scorsi. Siamo su massime tra i 21 e i 22 gradi. Così oggi si presenta la regione Marche. Mi sono fermato o soffermato più che altro su alcune immagini che ci permettano di respirare un po' di luce e un po' di speranza. Questa per esempio è la webcam piazzata su Iesi, amiche e amici, alle 7 e 22. Questo era lo scenario che si presentava. Faccio un po' una rima tra Iesi e Sant'Elpidio a mare. Pensate un po' questa è l'immagine che ci ha consegnato l'amica Mirella. Nel frattempo il sindaco di Cantiano che racconta il cuore della comunità è distrutto. Siamo stati a Senegallia, abbiamo seguito in diretta l'incontro con il premier Draghi. Cantiano è a livello nazionale anche molto molto conosciuta per quella frase della vice sindaco che diceva Cantiano non c'è più, siamo andati a fare un sopralluogo. Siamo stati di fronte purtroppo a un evento catastrofico, imprevedibile. In poco più di due ore è cascato a terra l'equivalente di sei mesi di precipitazioni normali, ordinarie. Quindi come vedete non c'è più il paese, abbiamo un centro storico completamente distrutto, non c'è più un'attività commerciale attiva, abbiamo una zona residenziale completamente distrutta. Oggi in questa fase siamo in una fase emergenziale, stiamo pensando alla salute dei cittadini, abbiamo liberato le frazioni, ridato viabilità, servizi pubblici, da oggi c'è corrente, c'è acqua, entro la giornata sarà ripristinata la rete del gas metano, però è chiaro che ci aspettano mesi e direi anche anni drammatici. L'appello è che le istituzioni in questo momento, stamattina c'è stata la visita del capo di Dipartimento della Protezione Civile Curcio, è che non ci si abbandoni, ci si dia una mano e chiediamo una boccata d'ossigeno immediata, un ristoro immediato nelle nostre attività, perché il fare attività, il fare impresa nelle aree interne è già condizione difficile e ordinaria. Dopo una casastrofe del genere il rischio è che non ci sia la voglia di ripartire, che il paese muoia, che non rimanga più niente nel paese e quindi cali anche la popolazione. Questo è quello che dobbiamo evitare. Io ringrazio comunque tutti, tutta la rete del volontariato, tutte le strutture di supporto, le istituzioni, tutti quanti in questo momento ci stanno dando una mano per cercare di gestire l'emergenza e guardare con un po' di fiducia al futuro. Queste le parole del sindaco di Cantiano, uno dei luoghi più colpiti dal sisma. Stiamo dal sisma, perché di fatto si tratta di un sisma, se vedete le immagini dietro di Maceri, è un sisma di acqua e fango, così lo abbiamo ribattezzato. 349-39-18169. Anche le notizie nazionali fanno riferimento a quanto è successo nelle Marche. Nelle ore del disastro il governatore Acquaroli era con Crosetto ad una cena elettorale. Anche oggi su Repubblica trovate questo tipo di analisi. Ieri, sempre su Repubblica, il servizio, l'articolo che faceva riferimento all'assessore regionale, con delega alla protezione civile a Guzzi, che nei minuti della primissima emergenza si trovava su un palco proprio a Senigallia per un confronto elettorale e durante il confronto rispondeva al telefono e cercava di dare le prime indicazioni. Questo hanno raccontato i diretti interessati altri candidati che erano lì sul posto, accanto a lui, sul palco. Spunta dal fango lo zainetto, ma non aiuta a trovare Mattia, perché lo zainetto era a otto chilometri dall'auto della mamma, travolta dalla piena del Nevola. Ancora senza esito le ricerche, io mi permetto un attimo di concentrarmi su questa immagine. Quando ci chiediamo cosa succede, perché non lo ritrovano, perché non ritrovano la signora Brunella, ecco, guardate in che condizioni stanno lavorando i sommozzatori, in mezzo all'acqua, al fango, nell'incertezza totale, soprattutto su un territorio enorme, perché l'alluvione davvero ha ricoperto centinaia di chilometri. E allora intanto un grazie a chi si sta dedicando anima e cuore senza guardare all'orologio per ridare il conforto, se non altro, di un corpo alle famiglie. Nella speranza è sempre però più flebile che i due dispersi siano ancora vivi. Non mi fermerò, mio figlio è vivo, è comunque il pensiero del papà Tiziano. 349-398-969, andiamo nelle pagine interne, cerchiamo anche altri temi legati non solo all'emergenza alluvione. Stop motori accesi, scossa in banchina, scattano i lavori per l'elettrificazione. Due mesi per realizzare le colonnine allo scalo 17. Acceleriamo su dragaggi, attracchi sicuri. Questo è un progetto importante per Ancona, perché sappiamo come il 30% dell'inquinamento del capoluogo regionale derivi proprio dal porto e derivi dal fatto che le navi quando arrivano al porto restino accese consumando e facendo anche dunque inquinamento proprio per mantenere in funzione la struttura e quindi le luci e quindi i riscaldamenti e quindi le cucine eccetera eccetera. Poter farle attaccare alla spina sarebbe una grande grande soluzione anche dal punto di vista della salubrità dell'aria. Pagine interne dei giornali. Falconara, le multe dei Velox per i costi dell'energia, ma con questi prezzi comunque non ce la facciamo. Il vice sindaco e assessore al bilancio Mondaini lancia l'allarme, lo Stato deve intervenire. L'idea è quella di utilizzare i soldi delle multe per calmirare i costi dell'energia. Da Falconara Osimo tagliano i posti eletto negli asili per coprire i costi della Movida. L'attacco delle liste civiche al comune sulla Asso. Nessun problema economico in realtà spiega il sindaco Pugnaloni. La capogruppo Bordoni dice non è previsto il riposo pomeridiano per tutti i bambini. Intanto a Camerano un murale per ricordare gli operai storici. Posizionato su una panchina nel Belvedere fuori porta è stato inaugurato domenica. 349 39 18 16 9. Intanto mi pare sia stato ripristinato, ringrazio anche i nostri tecnici, sì, il servizio di diretta Facebook. E allora buongiorno dalla Svizzera. Un abbraccio Angela. Eccoci, buongiorno. Speriamo che ritrovino presto il bimbo e anche la signora ancora dispersi. Grazie Luisita. E allora Silvana, buongiorno. Questa mattina si è visto un bel arcobaleno. Margareta, buongiorno. Tanti, tanti questa mattina ci hanno dedicato anche delle immagini che potessero dare la cifra, il senso di una ripartenza, di un sole che torni a splendere. Intanto a Macerata caccia ai fondi per il centro. Palazzo Buonaccorsi, piano bis per il restyling. Puntiamo ai soldi dell'otto per mille. Ora è corsa contro il tempo per preparare i progetti. Ritorna a risplendere la Galleria delle Neide. Io su questo dovrei avere anche un'immagine molto molto bella. Ecco, alla restyling per la Galleria delle Neide a Palazzo Buonaccorsi di Macerata. Guardate un attimo. So che spesso seguite il programma ascoltando piuttosto che guardando e ascoltando. Ecco, qui un attimo merita questa foto che si butti l'occhio, come si dice. Non siamo a Louvre, non siamo agli uffizi di Firenze, non siamo ai Musei Vaticani di Roma, siamo nelle Marche. Anche la bellezza con la quale contrastare l'orrore, contrastare il dolore, contrastare i danni che sono stati creati dal maltempo. Torno allora su questo. Il lutto e l'angoscia di Barbara e San Lorenzo in campo per le due vittime o comunque presunte tali attualmente risultano disperse. Ci sono legittimi messaggi secondo cui purtroppo passato tutto questo tempo sarà difficile ritrovare in vita. Ma se un parente, se un genitore in questo caso è convinto che il bimbo disperso sia vivo, noi dobbiamo lasciargli assolutamente il beneficio del dubbio. Intanto le operazioni ci spostiamo nel Pesarese di Lotta, finisco anzi un attimo al volo il Corriere Maceratese perché c'è anche la bellezza del meteo, come ci state raccontando le foto del sole che torna a splendere, ma anche la bellezza della splendida Glelani che sogna ora di vincere Miss Italia e poi un figlio. Questi gli obiettivi di Glelani Cavalcanti e la bellezza Civitanovese che sarà alla finale di Miss Italia. Da Macerata, come dicevo, a Pesaro dove andrò tra poco con le nostre telecamere perché la nostra Laura Meda si è recata fisicamente a Cantiano. 3 miliardi buttati in acqua. Questa è la conta, prima conta. Danni enormi in due province, migliaia di imprese colpite, strade e ponti distrutti dalla piena dei fiumi, intanto nelle città, nei borghi, la battaglia contro il fango. Quella sera un fiume, una cosa indescrivibile. A Cantiano questa è la situazione per le vie del centro, è anche difficile camminare in alcune strade perché come vedete sono piene di melma e tra l'altro in alcuni punti è anche molto dura, si sta solidificando. A Cantiano non c'è più niente, è distrutto. Ma questo era il suo negozio di vestiti? Sì, di abbigliamento, sì, nel mio negozio di abbigliamento. Cos'è rimasto? Niente, gli aiuti sono il zero, stiamo facendo tutto da soli, disastro totale, qui non si riparte più, io ho tre anni che ho aperto, due di covid e dell'alluvione. Di cosa ha bisogno? Di aiuti grossi, ci vuole l'esercito qui, se no noi non ne usciamo. Io c'è un giorno che non ho l'acqua, non c'è il gas, però si arranciamo, c'è le cose più brutte, ci sono stati morti, bisogna accontentarsi. Siamo con una volontaria che è arrivata qui a dare una mano da Pesaro, quando sei arrivata? Stamattina alle 8 e mezza, siamo arrivati qua, io e il mio amoroso abbiamo deciso di dare una mano. Sembra di essere dentro un film, non te l'immagini. E poi noi siamo comunque, cioè Pesaro, non è che dici sei tanto lontano, ma anche se te lo raccontano non riesci neanche a immaginartelo. Anche perché poi vabbè, ok il fango, vedi la strada sporca, ma se provi ad entrare ci sono certi punti che c'è l'acqua talmente tanto melmosa che rimane incastrato. A Cantiano c'è ancora molto da fare, a tre giorni dall'alluvione, come vedete le strade del centro sono ancora invase dalla melma e dal fango. Si lavora per cercare di liberare tutte le vie, si lavora in qualsiasi modo, anche in modo artigianale, come ci hanno mostrato qui alcuni volontari della protezione civile. Ci sono tante mani che sono qui, ma il lavoro, dicono, è veramente tantissimo e non si sa quando finirà. Stiamo cercando di portare via la fanghiglia rimasta, qua ci hanno abbandonato un po' tutti, allora lo dobbiamo fare da soli. E questi sono i sistemi ideati da un branco di scavezza colli, però è molto produttivo. L'importante è che nessuno si dimentichi di Cantiano. Io non sono di Cantiano, sono di Piobbico, un paese qui vicino. Non vanno abbandonati come è stato col terremoto, che purtroppo da noi funziona così. E questa ola, questa esultanza dopo la vittoria pur parziale contro il fango, un piccolo successo in una piccola via, in un quadro di decine di chilometri di fango a coprire, a devastare le marche, è il segnale della ripartenza. Cambiamo argomento, siamo a Pesaro. Condomini, bollette shock, tagli per contenere i costi, revisione al ribasso per le polizze assicurative e caccia alle tariffe più competitive sul mercato. L'aumento medio calcolato in alcuni casi è del 35-40% e del 50% sugli aumenti delle bollette a partire dal gennaio 2023. Nel condominio sovia Lungofoglia-Caboto, l'amministratore ha comunicato un aumento dei costi di 2.000 euro l'anno. Zone sensibili, maggior peso dei costi e delle rette condominali incide sulle strutture costruite in particolare negli anni 60-70 e con riscaldamento centralizzato in questi condomini ci sono gli aumenti più importanti. Le zone con maggior concentrazione di condomini più esosi sono in centro storico e nella zona mare di Pesaro, ma riguarda un po' tutte. Ancora notizie locali, questa riguarda i rifiuti e trovate un dettaglio anche in primo piano. Stop al riempimento delle discariche, la regione ferma il programma MMS, la revisione del piano d'ambito rivelata dall'ATA che accoglie un'osservazione alla VAS di Marta Ruggeri. Extra profitti realizzati per 5 anni sui rifiuti, una gestione dannosa per l'ambiente giustificata con una motivazione tecnica svanita poi alla prova dei fatti come neve al sole e la violazione sistematica della pianificazione regionale legittinata dagli enti locali a partire dalla provincia. C'è tutto questo e altro ancora nel riempimento accelerato delle discariche di Caluccio di Urbino e di Casprete di Tavuglia praticato dal 2017 da Marche Multiservizi. Nel business dei rifiuti emergono dunque in provincia di Pesaro vuoti e contraddizioni. Intanto anche per questo motivo è stato stoppato il progetto, quindi stop ai tir dei rifiuti da tutta Italia. Torniamo alle notizie nazionali di nuovo. Repubblica in primo piano che addirittura, attenzione, come notizia di apertura si concentra su questo aspetto. Nelle ore del disastro, quindi dell'alluvione, il governatore Acquaroli, il governatore delle Marche, era con Crosetto ad una cena elettorale. Durissimo attacco di Repubblica nei confronti del presidente della regione. La seconda news invece è legata alla campagna elettorale che diventa anche un po' europea perché Meloni post fascista, Berlusconi coi sovranisti. L'allarme viene da Berlino dove ieri Letta si è recato per incontrare Scholz. I moderati rischiano una deriva di destra. Scholz dunque che spinge Letta, l'Espedè contro Fratelli d'Italia. Strade chiuse, intanto altro punto sulle Marche. Cataste di detriti e aiuti al rallentatore. La rabbia di sindaci e imprese. Protezione civile è ora di voltare pagina. Questo il commento. Intanto Mattia è qui, lo sento, è ancora vivo. Parla il papà Tiziano Luconi, il papà del bambino disperso. Intanto come abbiamo già raccontato è stato trovato il suo zainetto da scuola. Sofia Raffaele, i miei ori nella ginnastica ritmica per le Marche. Adesso sogno le Olimpiadi di Parigi. Noi abbiamo domenica fatto vedere un bellissimo servizio montato dal collega Francesco Amicucci proprio su queste parole che la straordinaria Sofia ha voluto dedicare alle sue amate Marche. 349-39-18169. Brunella dispersa, nessuna traccia. Il paese vuole credere ancora in un miracolo. Ancora piangiamo la figlia 17enne. E su questo? Sulle persone che mancano all'appello, sulle testimonianze di chi le conosce il servizio. Il clima che si respira è di un silenzio. Un silenzio che grava sul nostro paese e che è pesante. Pesante per le morti che ci sono state e allo stesso tempo anche per i dispersi. Il lutto e l'angoscia, sentimenti che fanno rumore nel silenzio di Barbara. La comunità che spera e prega per Brunella, la mamma di Noemi. E per il piccolo Mattia, le cui ricerche continuano ancora. E che piange per la morte della 17enne, trovata senza vita venerdì sera inghiottita dal nevola. Noemi in particolar modo era una delle giovani che animava una messa domenicale con la chitarra. Piena di vita, piena di sogni, piena di speranze. E adesso non c'è più. E quindi si sente un vuoto grande. Due le comunità dalla quotidianità sospesa, sconquassata. Barbara dove vivono il papà e i nonni di Mattia e dove mamma Silvia lavora nella farmacia del paese. Lei miracolosamente scampata e salvata dalla piena d'acqua. E poi San Lorenzo in campo dove Mattia va a scuola e lo zio Alessandro Fontana, marito di Caterina, la sorella di Silvia e assessore all'urbanistica e alle attività produttive. La speranza è sempre l'ultima cosa a cui ci aggrappiamo tutti. Anche se realisticamente le possibilità sono quasi nulle. La famiglia è distrutta anche perché Alessandro stesso, Caterina che è sorella di Silvia e la mamma di Mattia si sono ritrovati a gestire l'emergenza e il ritrovamento di Silvia fortunatamente in viva sin dai primissimi momenti. Sono tutti estremamente provati. Quindi perlomeno porre un attimo termine a quest'ansia che logora più di altre cose. Mattia era una figura speciale qui all'interno della nostra parrocchia perché lui frequentava, non dico quotidianamente, ma col papà che quando giravano con lo scooter qui per le vie del paese lui poi si faceva sempre vedere qui all'interno della chiesa. Mi metteva su sistematicamente una metà di tutte le candele che poteva collocare e un'altra metà me le spargeva per terra. Era di una simpatia unica, comunicava una voglia di vivere incredibile questo bambino. Queste le voci dedicate a chi non c'è più o chi non c'è ancora. La Bibbia galleggiante nell'oratorio inondato. Alcune delle storie che abbiamo in parte raccontato a Pianello di Ostra, in salvo il libro Sacro, su un tavolo sollevato dall'acqua. E poi, salvo, grazie ai carabinieri, mi hanno tirato fuori dal fango. Un racconto pazzesco. Alessio Tassi, 45 anni, è l'autista. Vivo per miracolo. Ho una polmonite batterica. Ho mangiato la melma. La mia compagna Mary e mia figlia Melissa erano sul tetto di un'auto che galleggiava, trascinato dalla corrente. Anche questi salvi per miracolo. E poi, letto sollevato dalla forza del fiume, lui dorme e si salva per miracolo. La storia di un settantenne. Raccontano i vicini. Se si fosse svegliato, sarebbe morto affogato. Pensate, stava dormendo. Il letto lo ha sollevato l'acqua. E anche grazie a questo ha avuto salva la vita. 60 secondi tra la vita e la morte. Li ho visti affogare nel garage. Parla l'uomo sceso insieme a Diego, Giuseppe e Andrea per salvare le auto a Pianello. Arrivava acqua dappertutto. Questa scelta di scendere giù per recuperare l'auto, la bici elettrica, che purtroppo è risultata fatale per questo papà e per questo ragazzo. insieme con un altro uomo. Hanno perso così la vita. 349-3918169 da Porto d'Ascoli a Trisungo. Il Piceno è già finito sott'acqua. Allora cosa fare per evitare che...